Il patto per lo sviluppo delle marche, siglato in seguito al sisma del 2016, gli obiettivi dell'Agenda 2030 con la rinnovata attenzione all'ecologia nell'appuntamento degli Stau Macro Trends. Oggi ad Ancona ce ne parla Alfredo Ranavolo. L'ambiente, primo volano dello sviluppo da qui a dieci anni, che deve essere sostenibile come dipingono gli obiettivi fissati nell'Agenda 2030. Con gli Stati Uniti via dall'Accordo di Parigi tocca al vecchio continente esserne principale promotore. L'Unione Europea con la nuova Presidente van der Leyen lancia un programma di investimenti da mille miliardi per l'ambiente, per la sostenibilità e per combattere il cambiamento climatico in dieci anni. Ora questo è chiaramente impegnativo e deve mettere insieme le aziende e le istituzioni pubbliche. La manifattura al centro dell'economia marchigiana sembra vivere sull'orlo di una perenne crisi dei distretti che l'hanno caratterizzata, ma non tutto è nero. Ci sono fenomeni molto interessanti di innovazione nell'industria e nei servizi, che però sono ancora più limitati rispetto alla grande base manifatturiera con cui le marche si sono caratterizzate in questi anni. Io segnalerei tra i dati positivi l'impennata degli investimenti anche nelle aree interne. Nella giornata dell'Istao si è guardato anche al modello che, numeri alla mano, ha riscontrato i maggiori successi negli ultimi anni. L'Emilia Romagna. Non ci sono ricette della felicità. Qua c'è un metodo di lavoro, che è un metodo molto chiaro. Bisogna coinvolgere le persone nell'elaborazione. E' fattibile in tutti i territori, perché in fondo questa è la nuova visione della politica. La capacità di essere fortemente radicati in un territorio, nella sua storia, perché ognuno ha la sua storia, però aperti, senza paura al mondo. E dall'altra parte lavorare sulla grande tradizione manifatturiera di questo paese.